Dagli alberghi in funzione tutto l'anno a quelli stagionali che riaprono i battenti, saranno circa 25 gli hotel della città di Pesaro aperti per Pasqua, primo vero appuntamento di ricettività turistica primaverile. Un turismo al quale strizza l'occhio la fine dello stato d'emergenza pandemico contrassegnato dall'entrata nel mese di aprile, ma soprattutto l'assist più importante arriva dai tornei di basket cittadini, che dopo due anni di assenza tornano in città e lo fanno annunciando circa 3500 presenze in arrivo. Nella parte di aprile abbiamo delle buone iniziative, soprattutto legate alle attività sportive, quindi il torneo Ciao Rudy di Pasqua e l'Adriatica Cup del 25 di aprile porteranno delle buone presenze, vediamo che stanno telefonando, stanno richiedendo e ci saranno parecchie squadre di ragazzi che verranno a Pesaro, quindi relativamente con parenti e amici, quindi ci sarà un buon andamento. Il mese di maggio sarà invece un mese come tutti gli anni abbastanza con poche presenze e speriamo di poter tornare a lavorare poi dalla seconda metà di giugno in poi.